Il laboratorio IBIS supporta le aziende nell'ottimizzazione dei loro processi. Le competenze principali che abbiamo sono quelle relative allo sviluppo di modelli quantitativi per l'ottimizzazione, la simulazione e l'analisi dei dati. In particolar modo, partendo dai dati, supportiamo le aziende nel prendere migliori decisioni in merito sia ai processi strategici sia a quelli tattico-operativi. Il laboratorio IBIS vanta numerose collaborazioni in numerosi contesti sia in termini di settore di attività sia in termini territoriali. In particolar modo collaboriamo con numerose aziende della provincia di Prato e di Firenze, ma abbiamo anche numerose collaborazioni con realtà di natura multinazionale, con sede in Lombardia e anche all'estero. Inoltre, oltre alle collaborazioni aziendiali, abbiamo numerose collaborazioni con altri partner di ricerca, anche questi dislocati sia sul territorio, sia a livello italiano, sia all'estero, in Europa e anche negli Stati Uniti. Sicuramente i nostri punti di forza sono la capacità di declinare, diciamo, in un contesto aziendale, e numerose metodologie che sono patrimonio dell'ingegneria industriale. Quindi, diciamo, il nostro obiettivo è quello di, non tanto di sviluppare nuove metodologie per studiare nuovi processi, ma quello di applicare delle metodologie ben consolidate, che conosciamo molto bene, nel contesto aziendale. Quindi, diciamo, l'orientamento al problem solving forse è il nostro miglior pregio. L'ultimo progetto di ricerca, e forse anche il più grosso, che abbiamo svolto sino ad oggi, ci ha visto collaborare con l'importante realtà del territorio, che è l'ospedale pediatrico Maya di Firenze, con il quale abbiamo instaurato una collaborazione che è durata sette anni, nell'ambito della quale abbiamo riprogettato interamente il loro processo di programmazione delle sale operatorie e abbiamo ottimizzato numerosi processi all'interno dell'ospedale, in aree quali, ad esempio, il pronto soccorso, il centro prelievi e la radiologia. Grazie. Grazie. Grazie.